La prima parte dell'intervista che ho fatto stasera a Giorgia Meloni, perché anche questa lo riguarda. Onorevole Meloni, esiste ancora un centrodestra? Mi pare che un centrodestra parlamentare abbia dimostrato di non esistere in questa vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica, mentre io sono convinta che esista ancora un centrodestra nella nazione, che è anche maggioritario. Credo che gli italiani che votano centrodestra, che condividono le nostre idee, non meritino né di essere rappresentati così e non meritino lo schiaffo in faccia che la sinistra continua a dare, sostenendo la bizzarra tesi che chiunque non sia di sinistra non sia degno di rappresentare le massime cariche dello Stato. Il vaso si è frantumato, è possibile mettere insieme i cocci? Guardi, questo lo valuteremo col tempo. Io però credo che quello che è accaduto sia molto irrispettoso degli italiani che votano per i parlamentari di centrodestra. Perché qui il punto non è che alla fine non si è riusciti a, il punto è che non si è voluto tentare davvero di eleggere per la prima volta in qualche decennio un Presidente della Repubblica che fosse espressione della cultura alla quale appartiene la maggioranza degli italiani. Questo io lo considero molto grave perché non è vero che non si poteva riuscire. Non era facilissimo, noi non avevamo i numeri per eleggere da soli, ma avevamo la maggioranza relativa nell'assemblea dei grandi elettori e io credo che si dovesse tentare fino in fondo. È questo che è mancato. E obiettivamente penso che sia francamente una pagina brutta per noi perché in questa elezione del Presidente della Repubblica noi siamo partiti con una sinistra che diceva che tutti i candidati del centrodestra faranno la fine di Berlusconi. Non è stata lei la prima a fare una forzatura con Crosetto che da gentiluomo si è prestata a fare il pesce pilota e poi con Nordio una forzatura anche all'interno del centrodestra? Assolutamente no, nel senso che io ho chiesto che il centrodestra votasse uno dei candidati della sua rosa a partire dalla terza votazione, che dimostrasse ancora prima dell'elezione, dalla quarta si sa che c'è più agibilità per eleggere il Presidente, di avere i numeri che dichiarava perché questo l'avrebbe messo in una posizione di forza per trattare con l'altra metà campo. E' questa prova che non si è voluta fare, per cui poi si è rotolati sempre di più per arrivare alla rielezione di Mattarella. Lei parla come se alcuni dei suoi alleati giocassero a perdere. Esatto. E va bene, ma con quale vantaggio? Non lo so, l'ho chiesto a loro. Lei però, l'esperienza politica, che gioco c'è? Non lo so con quale vantaggio, questo non l'ho capito oggettivamente. Dico che si potevano fare le cose diversamente. Quando io ho candidato Guido Crosetto per dare in realtà un segnale agli italiani, cioè alla terza votazione, già comincia a diventare pesante. Schieta bianca, schieta bianca, schieta bianca, schieta bianca. Quindi era, e l'ho dichiarato, non c'era alcun intento divisivo della coalizione. Io fino a ieri ho difeso l'unità della coalizione, lei sa che Fratelli d'Italia ci ha lavorato come nessuno. Però quando abbiamo votato candidato Guido Crosetto, e quindi non era un candidato della rosa di centrodestra, era un candidato palesemente di bandiera, Guido Crosetto ha preso 115 voti quando i delegati di Fratelli d'Italia sono 63. Che cosa dimostrava? Che c'era una capacità attrattiva del centrodestra in aula. Se il centrodestra si fosse mosso compattamente dimostrando che non intendeva cedere, esattamente come quando noi abbiamo deciso di andare in aula con il voto alla presidente Casellati e il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno detto, il PD, che non sarebbero entrati in aula. Io ho detto rifacciamolo, prima o poi dovranno entrare in aula e dovranno misurarsi. E invece si è scelto di non riprovare. E niente, basta, è finita. Insomma, l'accusa è che non avete avuto la forza di andare avanti. Ma io non faccio mai polemiche all'interno del centrodestra. È ovvio che nessuno voleva perdere. E a volte...